Ciao a tutti da DiegoDiTechnoFun.it Oggi vi faccio vedere un oggettino davvero molto carino per i runner quelli che corrono oppure, non so, gente come Forrest Gump che corre anche lui oppure semplicemente per podisti oppure semplicemente per qualcuno che si vuole portare lo smartphone appresso con diverse funzioni davvero molto utili Cos'è? È un varsupio, vedete, molto carino con materiale in neoprene e cintura elastica Che cosa serve? Serve a fissarla bene alla nostra vita in modo che quando non corriamo questo non sballonzola e non ci fa male le zone diciamo basse Per gli uomini e per le donne non c'è assolutamente problema La particolarità qual è? Innanzitutto abbiamo una cernera qua nel retro che una volta chiusa è resistente al sudore quindi non passa il sudore ed è resistente anche agli acquazzoni in caso che prendete una sciacquata d'acqua non c'è problema non è resistente all'acqua, attenzione nel senso che non potete fare dei tuffi Poi cosa abbiamo di interessante? Abbiamo questa doppia tasca che è esattamente questa che serve da inserire all'interno il nostro smartphone adesso lo vado ad inserire che è elastica anch'essa in modo che lo smartphone rimane devo cercare di non buttare intera la telecamera ok in modo che il nostro smartphone rimane bello fermo vedete in questo caso e cosa succede? voilà eccolo qua in tutta la sua bellezza funziona anche con gli iPhone 7 in questo caso chiaramente non funziona con il Touch ID però riusciamo a sbloccare lo schermo ho provato altri prodotti che non riuscivano a far funzionare il tasto Home compatibile con il massimo che ci sta è questo vedete un iPhone 7 Plus quindi display da 5 pollici e mezzo la comodità è che oltretutto abbiamo anche questo foro per far uscire le cuffie ma se avete le cuffie Bluetooth non serve se invece utilizzate delle cuffie con il cavetto che vi ricordo questo non ha il jack audio però usate l'adattatore eccetera eccetera potrete ascoltarvi la vostra musica la comodità è che comunque lo smartphone, il retro è protetto quindi potete mettere anche dentro i vostri documenti tutto quello che vi pare e quindi è una soluzione davvero molto interessante anche perché ragazzi viene il prezzo è veramente basso solamente 8 euro ed è una funzione davvero molto comoda tra l'altro possiamo anche rispondere al telefono senza la necessità di toglierlo perché l'audio passa diciamo tranquillamente quindi multifunzionale molto molto comodo ed è un accessorio che sicuramente piacerà appunto a questa categoria di persone gli sportivi che magari si vogliono portare a presto il proprio smartphone quindi 7,99 euro il link lo trovate sotto la descrizione del video lo vende Amazon spedizione Prime vi arriva il giorno dopo e quindi secondo me è un ottimo acquisto ciao da Diego e buona corsa grazie a tutti Grazie a tutti.